Il vuoto lasciato da Roberto Cecchi nella giunta di Varese costringe il sindaco a un bivio, una delle strade che potrebbe imboccare più che altro amministrativa, la seconda e soprattutto politica. Se optasse per la prima il sindaco dovrebbe concentrarsi sull'assessorato alla cultura e dovrebbe scegliere una figura alternativa, quella di Cecchi, quindi dotata sicuramente di esperienza, competenza, autorevolezza, ma anche di forte varesinità, di radicamento, di confidenza con quel tessuto associativo che Cecchi aveva volutamente trascurato per privilegiare relazioni extra cittadine. Se al contrario Galimberti optasse per la seconda strada, quella più politica, si troverebbe a dover gestire un dilemma tutto interno al suo partito, il PD. Potrebbe infatti decidere di promuovere sul campo un collega di partito rimasto escluso al primo giro. Potrebbe decidere di imbarcare in giunta, sempre che lei sia disponibile, Luisa Oprandi. Tutti ricorderete il putiferio di polemiche scoppiato all'indomani delle elezioni quando Luisa fu esclusa dalla squadra di giunta. Le polemiche erano legate a due fattori, tanto per incominciare Oprandi aveva guadagnato sul campo tanti voti che avevano fatto comodo alla coalizione di centro-sinistra. Dall'altro lato Luisa vanta anche una competenza indiscutibile in ambiti importanti e delicati come l'impegno sociale, l'istruzione o appunto la cultura. Ma Galimberti, se si muovesse all'interno di via Monterosa, potrebbe fare anche un'altra scelta alternativa a quella di Oprandi. Potrebbe ad esempio coinvolgere in giunta Luca Paris. Paris nel 2016 era segretario cittadino del PD e quindi a sua volta vanta un contributo tutt'altro che indifferente a quella storica vittoria elettorale. Ecco qui sta il punto. Cosa sceglierà di fare Galimberti? Farà una scelta più di contenuto o più politica, più di partito? Nel primo caso deluderà le aspettative dei compagni di viaggio, nel secondo potrà magari ricucire un antico strappo anche a costo di provocarne uno nuovo.